Una caviglia così, talmente brutale, che ha provocato la frattura della mia caviglia, capito? Ha provocato la frattura della mia caviglia. Ma si è dovuto andare al pronto soccorso? Al pronto soccorso. Non è stato sufficiente. Quindi sui basoli... Di Nola è impossibile camminare, è pericolosissimo. E nessuno... E voglio dire di più. Se fosse capitato da una persona meno giovane di me, come faceva a sollevarsi, a ritornare? Io ho provato un dolore quasi da svenimento totale per appoggiare il piede in una falla, in un buco di questi basolati ormai distrutti. Sono stati distrutti i basolati di Nola, Raffaella. Questo è il problema. E qualcuno dovrà interessarsi e prendersi cura di noi, perché non possiamo vivere in questo stato.